Laudetur Jesus Christus, cari teleradioscoltatori, è Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 17 giugno 2020 per il nostro consueto commento del giorno. Noi siamo ormai di fatto in una situazione politica in Italia in cui il confronto democratico o anche l'alternanza o anche le prese di posizione di un'opposizione che dovrebbe contrastare un'azione autoritaria egemonica di un governo non eletto è qualcosa che veramente lascia senza parole, perché in questo momento è sempre più chiaro che l'Italia si è incamminata in un itinerario in cui detta legge soltanto l'agenda dei potentati economico-finanziali che vogliono prendere in pugno il nostro paese e governarlo con un pugno di ferro. E' proprio a questo scopo, vedete, che il Presidente del Consiglio Conte ha convocato gli stati generali. Che cosa sono questi stati generali? E' qualche cosa che rispecchia una logica, perché è un'invenzione praticamente proprio di Conte che è stata pensata e annunciata a quanto pare proprio all'insaputa degli stessi ministri dei partiti di governo e dello stesso capo dello Stato che sembra non aver gradito, almeno così si pensa, la sostanziale archiviazione del rapporto Colau che comunque è un altro personaggio che fa parte del club di questi superpotenti che governano in qualche modo del mondo e dettano l'agenda degli indirizzi che devono seguire i paesi membri dell'Europa. Ma vediamo cosa sono questi stati generali per capire meglio che cosa sta accadendo, perché gli stati generali nacquero in Francia nel 1789 e non portarono certamente buoni auspici o un futuro radioso a Luigi XVI, perché sappiamo bene che furono il preludio di quella rivoluzione francese che costò la testa di Luigi XVI e della sua consorte Maria Antonietta, che appunto vennero sacrificati proprio sul patibolo della furia rivoluzionaria giacobina. Quegli stati generali servivano sostanzialmente a preservare il potere dello status quo, la monarchia e il clero sul terzo stato composto prevalentemente dalla borghesia. Quelli invece convocati in questi giorni da conte non hanno tanto la funzione di preservare lo status quo, quanto quella di ridisegnare completamente la faccia della nostra Italia, che non assomiglierà in nulla a quella vecchia, ovviamente sempre avendo come stella polare di riferimento gli interessi di questa oligarchia che ha in pugno ormai il paese senza che nessuno se ne occupi o senza che nessuno faccia finta di vedere e di capire quello che sta accadendo realmente in profondità, in questa azione di questo stato profondo detto con termine inglese Deep State. Dove sta l'opposizione? Io mi domando, al di là delle prese di posizioni su questioni assolutamente marginali, la domanda che ci poniamo è dove sta l'opposizione in questo nostro paese? Ma infatti non è un caso che saranno il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli e il governatore della BCE che è la Christine Lagarde che parteciperanno a questo incontro riservato, questi stati generali probabilmente nuovamente a bordo del Britannia, di questo grosso piroscafo inglese, in cui si decideranno proprio le sorti del nostro paese alla faccia del Parlamento. Nessuno di questi si trova lì per un mandato elettivo, come tutti voi capite, ma sono tutti il prodotto di compromessi raggiunti al chiuso delle stanze dei palazzi comunitari, proprio là dove i popoli europei non hanno mai avuto alcuna voce, sudditi, sudditi se non schiavi in questa prospettiva. Ma che cos'è questa convocazione di questa piccola elite che si vuole ritrovare per decidere soprattutto le sorti del nostro paese? Non è altro che un piccolo Bildberg in miniatura dedicato esclusivamente all'Italia che si riunisce per attuare le direttive già tracciate in larga parte dal piano Colau. Quindi si deve procedere alla fase finale della globalizzazione verso il nuovo ordine mondiale e proprio per questo indispensabile privare l'Italia delle sue ricchezze residue. Ecco perché è probabile che si stia preparando anche un attacco ai risparmi degli italiani, con un intervento improvviso e imprevedibile. Colau, anche lui, come forse alcuni di voi sapranno, è membro del Bildberg e ha in questo senso indicato la via nel suo piano per facilitare le dimissioni pubbliche e consegnare i gangli vitali dello Stato nelle mani dei grandi gruppi finanziari esteri. In questo il 5G è l'ultima generazione della telefonia mobile, diventerà lo strumento che consentirà di instaurare un tecno-totalitarismo che sorveglierà i cittadini in ogni istante della loro vita. La privacy sparirà del tutto, così come le libertà personali. L'ultima fase del globalismo prevede infatti la fine del dissenso, il controllo assoluto della popolazione e la repressione di fatto. Il governo unico mondiale che agognano da generazioni le famiglie più facoltose della finanza internazionale, sapete chi sono? I Rockefeller, i Rothschild, i vari Bill Gates, Soros, sarà qualche cosa che ricorderà proprio un totalitarismo perfetto di stampo filocinese. La tecnologia in questo senso, gli strumenti di controllo del nuovo tecno-totalitarismo arriveranno probabilmente a partorire una società simile a quella descritta da molti autori, tipo il Horwell del 1984, nel quale molti cittadini inizialmente si ritroveranno ad adorare o accettare la loro condizione di servitù in una forma di prostrazione e di schiavitù totale. E in questo senso capite che gli stati generali sono espressamente concepiti come un appuntamento delle grandi elitte internazionali per accompagnare l'Italia verso l'ultimo passaggio che deve inaugurare il nuovo ordine mondiale. Una corsa, vedete, sempre di più, un'accelerazione in cui in questa ultima fase gli stati nazionali europei perderanno le loro caratteristiche originarie e diventeranno sempre più simili a post-nazioni, gestite dirette completamente da strutture sovranazionali senza alcun legame con i popoli europei. E il potentissimo Club di Roma, che è il braccio operativo di questo Comitato dei Trecento, sarà appunto quella struttura che faciliterà questo passaggio, in cui gli stati generali avranno sempre di più una funzione di portare l'Italia verso l'era deindustrializzata, nella quale lo Stato giuridicamente sarà una specie di simulacro nelle mani di poche persone, di organismi sovranazionali, dominati a loro volta dai club privati e dall'elite, in cui il mondo politico, totalmente sottomesso anche quello dell'opposizione, come sta accadendo in questo momento, diventerà totalmente inutile, diventerà solo uno strumento operativo che dovrà attuare le direttive che arriveranno dall'alto, da parte del club e di queste elite che comandano. Quindi siamo verso la fine di un lavoro di smantellamento di una nazione che è iniziato molti decenni fa e in questo passaggio vedete che la Repubblica stessa e tutto quello che in qualche modo l'ha rappresentata in questi ultimi anni è qualcosa di cui ci dobbiamo velocemente dimenticare. Ricordo che questo incontro che si dovrebbe fare appunto a bordo di questo piroscafo inglese del Britannia è proprio la prosecuzione ideale di un altro appuntamento nel quale si decise che la Repubblica doveva morire, cioè la riunione che ebbe luogo parecchi anni fa, il 2 giugno del 1992, a bordo di questo panfilo della regina Elisabetta in Britannia, a largo delle acque di Civitavecchia, fu il luogo e l'occasione in cui allora Mario Draghi, direttore generale del Tesoro, consegnò l'industria pubblica nelle mani di Goldman Sachs e dei predatori della finanza anglosassone. A bordo, pensate, in quell'occasione c'era anche Carlo Azzeglio Ciampi che all'epoca era governatore della Banca d'Italia, Benamigno Andreatta, poi deputato di Cipro, progressista, già ministro del Tesoro, poi Mario Monti naturalmente, Giulio Tremonti, Emma Bonino e i vertici dell'Eni e dell'Iri. Un club che si incontrò per attuare quel primo passaggio molto importante che doveva portarci verso la situazione attuale. Su quella riunione che si fece a bordo del Britannia e che ebbe tutte le caratteristiche di un attacco alla Repubblica perpetrato grazie alla sponda di uomini che hanno tradito la patria e la Costituzione, non ci fu mai nessuna inchiesta, ovviamente. Due mesi dopo il Britannia, un Parlamento che era stato ormai falcidiato da inchieste giudiziarie deregittimato in tutti i sensi, firmava l'adesione al Trattato di Maastricht che sanciva l'ingresso ufficiale dell'Italia nella Unione Europea e nella moneta unica. L'operazione allora riuscì alla perfezione. La crisi destabilizzante che era costruita dalla magistratura e dall'apparato mediatico traghettò il paese verso il traguardo prestabilito. Un importante passo avanti fu raggiunto e l'Italia da allora venne ingabbiata in questo meccanismo che la governava dall'alto e che impediva alla politica di poter svolgere un ruolo di controllo. In questo momento la convocazione degli stati generali di Conte serve a fare un altro passo avanti verso il progetto finale, quello decisivo, in cui la crisi del Covid è stato l'elemento perfetto per compiere quest'ultimo atto, perché occorre rimuovere l'ultima presenza industriale pubblica e spianare la strada ai grandi gruppi privati. Occorre in altre parole fare quel passaggio in cui gli Stati Uniti d'Europa non saranno composti da stati nazionali, ma da entità substatali, prevalentemente in mano delle grandi corporation. Quindi gli stati generali di Conte sono la chiusura del cerchio. L'elite avevano bisogno di un evento catalizzatore e questa volta si sono servite di una pandemia che i numeri ufficiali dicono esistere solo sui media, ma non nella vita reale. La crisi è ovvio che va alimentata, perché questa serve a mantenere in vita l'emergenza, senza la quale, voi capite, sarebbe quasi impossibile raggiungere l'obiettivo del Club di Roma e dei circoli mondialisti, cioè un nuovo ordine mondiale nel quale saranno gli Stati Uniti d'Europa. Questi ultimi porteranno il nome di Europa, ma non avranno nulla in comune con quello che è il senso più profondo dell'Europa. Saranno una vera e propria impostura, perché il vero obiettivo, come disse chiaramente uno dei primi ideologi, il Conte Calergi, è quello di rimuovere l'identità europea per sostituirla con una realtà assolutamente diversa che snaturi la stessa essenza, la stessa natura, soprattutto del nostro paese, e venga sostituita progressivamente anche attraverso il meccanismo dell'immigrazione. E per fare tutto questo, voi capite, è indispensabile colpire al cuore l'Europa, la sede della Chiesa Cattolica, la storia della nostra civiltà, della civiltà cristiana. E questo spiega perché l'odio viscerale di questa elite, verso soprattutto la nostra nazione, deve accelerarsi per dissolvere tutto il più velocemente possibile in questo passaggio finale, ultimo passaggio, in cui questi stati generali dovrebbero essere il meccanismo che dovrebbe, diciamo, accelerare il passaggio verso l'attuazione di questo nuovo ordine mondiale. Ma noi, cari amici, sappiamo che questa accelerazione ha un senso, perché il demonio corre in quanto il tempo ormai è scaduto. E come dice Monsignor Viganò, stiamo assistendo proprio in questi mesi al formarsi due schieramenti che potremmo definire biblici, quelli dei figli della luce e i figli delle tenebre. E in questa situazione voi capite bene che questi due schieramenti ripropongono la separazione netta tra la stirpe della donna e quella del serpente. Ma sappiamo che questa corsa inevitabile porterà sempre più rapidamente verso le estreme conseguenze e le conclusioni. Il finale, che voi sapete, non sarà quello del nuovo ordine mondiale che hanno in mente questi signori che servono le forze del male, ma sarà invece il nuovo vero ordine mondiale dell'Immacolata Corredentrice che trionferà ad onta dei progetti malefici di questi personaggi che altro non sono che figli delle tenebre. E proprio per questo, cari amici radioascoltatori, nel veder dipanare di fronte a noi uno scenario che potrebbe far brividire, tuttavia rafforziamo le nostre convinzioni, blindiamoci nel cuore immacolato di Maria a nostro sicuro rifugio. Rafforziamo la devozione al Santo Rosario e attendiamo fermamente, in spirito di verità e di carità, il momento decisivo in cui il Signore molto presto tirerà quel colpo finale che farà frantumare di fronte ai nostri occhi il gigante dai piedi di argilla con i suoi piani diabolici che si infrangeranno miseramente. Ed è in questa certezza che io auguro a tutti voi, cari amici tele-radioscoltatori, una buona giornata. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesús. Grazie a tutti.